panico che è uscito qua? che abbiamo? che abbiamo? angelo vorresti vedere un bel timo top? vorresti vedere un timo? oddio arcanista allora allora ione ma perchè sto perdendo acqua dal mio corpo? what the fuck? questo mondo ha bisogno di speranza sono un po' indeciso c'è pure un grazie sognar va? Il mio povero Ione. Eh sì. Quattro è che c'ho tre Arcanist. Oddio Ione 2. Porco Dio. Porco Dio. Porco Dio. Allora in realtà... Questa la perdo. Allora... Gunzo... Lo prenderei subito. Oddio, non ho mica detto che la perdo questa. Ah no, sì... ammazzà a gai. Eee... governo... Vediamo... convention gloria un uomo con un altro suonan signor Oh, fei. Angelone. Buono. beh un'altra unit oddio Eloy, grande Eloy Brogan Eloy ma mi sa che il cambio è proprio, sapete? mi sa che io ne non lo gioco mi sa che io ne non lo gioco, ragazzi vorrei cercare di fare allora dentro lui dentro lui fuori lui Amuno vediamo, vediamo vediamo se si può fare voglio testare Rob ah Gesù allora il problema è che qui per il destinato serve per forza oddio I don't know qui c'è un minico con un minico eccola chiamata proprio vai vai così loro si vende e lui si vende Brogan cazzo a Mumu dovrei tenerlo oddio vediamo un po' che riusciamo a fa' sono un po' curioso questo con 5 testi storie anche perché comunque io ne ce l'avevo bello contestato già da due persone boom 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 Cos'è sta roba? Oddio Nice Tanti soldi per moi Che ci abbiamo qui? È il modo attivo Oddio Brogan Nice Ci sta dicendo bene Buoni spot Anche se in realtà vorrei tankare Nico Fare Lux 3 e Nico 3 Sarebbe il mio piano Oh mi stanno a chiamare di nuovo Arrivo È arrivato il pranzo Porta puttana Parco 2 Guarda che cazzo è uscito Mi stanno a chiamare di nuovo Ti stai andruo Mi stanno a chiamare di nuovo Non Mi stanno a chiamare di nuovo Si tu hai mai Allora, Lux, si Tanchiamo Mumu Io vorrei fare Niko, sinceramente Aspettiamo un attimo Però devo slammar Cioè, se non slammo item è un po' inutile Ma quanto merita sta Lux? Porco Dio Che mi serve? Double mana? Buona Lux, ottima Scusate, non mangio ma Dai, vero? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Madonna, regà Another Dubbligator Porco Dio, se non vedo più Lux adesso non cazzo Maseario Nice Nice È fatta, è fatta Mmm Mmm Grazie a tutti Grazie a tutti No, non ci credo Non ci credo No, 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 non ci credo Porco, no, non ci credo No, non ci credo No, non ci credo No, non ci credo Porca miseria C'ho C'ho una mappa bestiale Bu Lux che sciotta Bu Ma me sa che la brello C'è la felio Oddio vediamo Lux Nice Very very nice Allora Salgo e provo a cercare Amumu Amico Ok Basta Ah questa c'è Amico 3 Mi sa che è sdroppostiate Amico Forse con lui perdiamo Perché se io ne mi attacca Lux è finita Ok Eh Eh Sono pure la di estrema L'ho visto Vabbè Poco male Allora Eh Quella onge Sarebbe perfetta Quella onge sarebbe Brogan Per me Eh la prende lui Eh invece no Ottimo So Brogan So so Brogan Very very Brogan Ma io ho poco Che cazzo metto Gargantro Sorato Oh finalmente Allora ragazzi io vendo sta Nico E Troppo questi item E la ho Facciamo Nico Pult Eh Lei Pult tank E Onge A lui E in realtà Soraga è Brogan Perché mi da Magia Quindi Lux Fa più danno Eh ci sta Ci sta Madonna Lux Mi sa che Perdo Va bene Devo salire all'otto Devo salire all'otto Assolutamente Perché io c'ho Shen Oddio Soraga 2 Allora io salgo all'otto E metto Soraga appunto Quindi Lux Dovebbe essere Brogan Vediamo un po' la differenza 1223 Eh beh Allora Ci vorrebbe il terzo item Per Per Udir E un item per Syndra Perché se no Non ti da percela Il problema è che c'ho I counter C'è c'ho due Ione in game Abbiamo dato 4 easy Ottimo Cos'è sta roba Oh Dai giù Ma cos'è so Brogan Questa è da Bologna E come stiamo Doppio malanotte Attenzione So Brogan Mettiamo un garganto migliore Oddio possiamo fare predestinato Raga possiamo fare predestinato Cazzo sta roba Porco 2 Mi dispiace Mi dispiace Per Soraga Che cosa E qui metteremo Un gunblade A lei Certo Ci abbiamo Tre guardiani Però Ci abbiamo Sette Lì Madonna Odir Dai Broken Peccato Peccato Vedere i guardiani Però Ma io so raga A sto punto La lascio E In tuoria la compa è finita Cioè se mi troppa Se mi troppa Dopo al note Quell'altra leggendaria Sempre se ci arrivo Perché la partita è finita E Vado di Insomma Cazzo si chiama Siamo giganti Possiamo vincere Adesso possiamo vincere Forse Vuol dire C'è un sacco di rubavide Le al 2 Ah me l'hanno saltato Perfetto C'è idea di merda Oh le top 3 Ci arrivo a 9 Sì Ci arrivo Cazzo E mettiamo Saraga Marco Dio Questo Saiione Merda Proviamo a mettere Lux C'è E a Cosa sulla destra Però Saiione 2 Una canna Lo sapevo Eh Buona buona Top Top 3 o 2 Top 3 Ottimo Va bene Va bene Vado un giocato bene Ho fatto una bella coppia Sono soddisfatto